Domani è l'ultima partita di campionato, noi dobbiamo aspettare i risultati degli altri campi, se vinciamo siamo sicuramente sesti, loro non giocano per nessun piazzamento, però essendo l'ultima partita in casa vorranno congedarsi dal loro pubblico con una vittoria, quindi sarà una partita secondo me un po' diversa dalle altre per la posta in palio, aperta a qualsiasi tipo di risultato, non è che ci cambia molto sesto, settimo, ottavo, noi siamo matematicamente dentro, arrivare sesto, settimo, ottavo non ci cambia la vita, anche perché una delle tre sarà Treviso, Fortitudo o Trieste, quindi dove peschi peschi è sempre un problema grande, grandissimo avremo. La partita dell'andata è un girone fa, sono motivazioni diverse, è stato il quarto più bello giocato dalla Paganesto Trapani quest'anno, ma ripeto, all'intervallo era già una partita, perché all'intervallo eravamo meno sei, quindi non mi fascerei la testa su quei due punti, tra virgolette, persi. Andiamo là, noi dovremmo provare le nostre cose e fare la nostra partita.